La Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale, richiesto al Governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l'eccezionale ondata di calore in Sicilia. La decisione è stata presa nel corso di una seduta straordinaria dell'Aggiunta, convocata appositamente dal Presidente Schifani a Palazzo d'Orlean. Secondo una stima fatta dalla Protezione Civile Siciliana, i roghi hanno causato oltre 60 milioni di euro di danni. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettori provinciali dell'agricoltura per la distruzione di produzioni e strutture agricole a seguito degli incendi. Secondo il report elaborato dal Corpo forestale della Regione, i roghi in Sicilia sono stati 338. Gli incendi hanno visto impiegati 4.585 uomini e donne tra personale indivisa e lavoratori forestali, con 748 mezzi antincendi utilizzati. 26 gli interventi di velivoli nazionali e 53 quelli degli elicotteri regionali con oltre 1.300 langi. Attualmente la superficie boschiva incendiata è di 693 ettari, quella non boschiva di 3.000 ettari. Altri 18.000 operai sono stati impiegati dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale per la Pulizia dei Boschi e a presidio e supporto delle attività del Corpo forestale. La protezione civile regionale ha coordinato circa 800 volontari e 200 mezzi. Il Corpo dei Vigili del Fuoco invece è intervenuto in 650 incendi urbani ed interfaccia con quasi 2.500 uomini. Centinaia di edifici distrutti o danneggiati, le infrastrutture, gli impianti di servizi generali, viari, elettrici, telefonici, fognari e di rifiuti. Migliaia le persone evacuate di cui un centinaio non può rientrare nelle abitazioni e necessita di sistemazioni alternative.